Tutti i professionisti dell'impiantistica che utilizzano la Clicard di Comodo e Ferrari hanno un trattamento di favore in tutte le nostre filiali. Rinnovando e attivando la Clicard potete accedere a un'offerta personalizzata, una proposta ritagliata perfettamente su di voi. La Clicard è anche digitale. Portatela con voi sullo smartphone e partecipate direttamente a un evento a voi dedicato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS